bastone stordente oh molto utile aspetta un attimo posso tagliare la linea trasversalmente no oh buongiorno signore ok abbiamo incontrato la gente oh salve signorina buongiorno finalmente la baita è pronta oh signori lo abbiamo atteso per anni finalmente è arrivato sounds of the forest il seguito del gran buon vecchio the forest qui abbiamo fatto due stagioni intere sul canale andatevele a guardare se ve le siete perse perché è accaduto di tutto ovviamente il gioco è in accesso anticipato quindi nei mesi a venire saranno aggiunte sempre più caratteristiche quindi ci saranno solo i contenuti iniziali non ci sarà tutta la trama che verrà rilasciata solo alla fine della fase di sviluppo ma questo non fermerà il telone quindi bando alle ciance facciamo scorta di mutande e prepariamoci ad un survival estremamente terrificante e ovviamente le nostre avventure iniziano a bordo di un velivolo in questo caso un elicottero non so praticamente nulla di questo gioco probabilmente la trama riprenderà dalla fine del primo the forest se vi ricordate il figlio del protagonista aveva iniziato a subire delle mutazioni ma potrebbero essere completamente scollegate una cosa certa ritorneranno i nostri amichevoli cannibali mutanti che bella cosa quasi ne sentivo la mancanza so per inciso che l'isola dovrebbe essere addirittura quattro volte più grande di quella del primo the forest ovviamente la grafica sarà migliorata tantissimo e sarà ovviamente migliorato ulteriormente quando rilasceranno nuove versioni nei mesi a venire come dicevo qui la facciamo parte di un gruppo militare ok molto interessante stiamo cercando il signor edward pafton che a quanto pare è scomparso sull'isola 31 settimane fa mio dio sta anche piovendo veramente un bel po' i nostri colleghi sono fisheye e kelvin perfetto cerchiamo anche virginia pafton qui abbiamo una panoramica dell'isola e non mi sembra che ci sia molto altro abbiamo pochissime informazioni con cui procedere fun fact a seconda di quanto tempo io impiego in questa intro cambierà il luogo in cui noi atterreremo non lo sto scherzando oh oh porca miseria ce n'ho ce n'ho battuto ma mi prendi giro hanno sparato anche il pilota e vabbè ma non possiamo iniziare sempre così my day my day stiamo precipitando non so nulla porca miseria non so quali sono le nuove meccaniche del gioco ho visto cose brutte per una frazione di secondo e maronne ragazzi non approfittate per colpeggiarvi spara tutti i dettagli al massimo ma devo anche ricordarmi che sti giochi all'inizio non sono ben ottimizzati ok sembra che io sia rimasto appeso agli alberi siamo tanti in alto siamo particolarmente in alto aiuto oh maronne siete tutti vivi ciccio dammi una manina fai attenzione perché porca la misera qualcuno avrà delle corde oh oh oddio si stacca oddio si stacca la portiera no 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 tieniti 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 porco cane ah si è fatto tanto male non credo sia sopravvissuto ah gli è caduto addosso qualcosa porca la miseria qualcun altro è vivo a bordo dell'aereo lo prendo come un no ok ok facciamo la stessa identica cazzata i believe i can spalmarmi male di sotto come ho detto sta anche diluviando quindi buongiorno cominciamo male no no date una calmata date una calmata va tutto bene la possiamo risolvere pacificamente abusa pure del mio corpo a lui piace il sesso violento ora lo sappiamo ahia che sta succedendo sentito degli alberi cadere buongiorno mio dio quindi sono l'unico sopravvissuto della mia squadra con quanto lag non me lo dici peraltro ok abbiamo lo zainetto ottimo un kit da aprire solo in caso di emergenza in tanti coniglietti che mi passano in parte ah ciao bambi buongiorno anche a te che sta succedendo allora signori davvero benvenuti su the forest bambi io ti faccio fuori anche a pugni non è che mi faccio troppi problemi ah ok si è accorto che ero dietro di lui oh mio dio c'è un sopravvissuto ciccio va tranquillo che stramazza il suolo va tutto bene fatti dare un aiutino quindi non sono da solo aia signor kelvin non la vedo messo molto bene kelvin ti sei di nuovo fumato i funghetti porca la miseria aia e mi sa che è sordo quindi ciccio ti chiamerò franco a questo punto tanto non sai come ti sto chiamando ok vediamo di utilizzare i sali per cercare di farlo riprendere credo che abbia una sorta di commozione cerebrale franchino buongiorno e bentornato tra di noi come va tutto bene a posso comunicare con lui tramite questo blocco note gli dico di recuperare dei pesci e lasciarli qui esattamente in questo specifico punto franchino devi improvvisarti sanpei capito dati da fare io l'ho proprio spalmato lì lo sto già maltrattando ma bene ci penso io capo signori mio dio va che grafica no vabbè ma mi prendi in giro e voglio dire è la prima versione dell'accesso anticipato wow cioè sarà anche tipo ottimizzato a schifo quindi il frame rate con la mia 4090 siamo a 40 frame al secondo non dico altro ok che ho sparato tutto al massimo allora vediamo di iniziare a recuperare il tutto ho trovato dei medicinali nastro adesivo un bastoncino beh vi mancavano i survival signori eccovi accontentati bravo franchino che mi hai già recuperato del pesce spero che il pesce non marcisca molto rapidamente la mia abbastanza tempo delle bombe a mano franco ti faccio pescare con le bombe a mano santo cielo abbiamo trovato un telo un orologio un panetto di c4 iniziamo la giornata in grande stile bersaglio di carta e nuove ricette di crafting delle batterie perfetto per fortuna che abbiamo le chest che sono cadute dall'elicottero altrimenti saremmo nella m più totale munizioni da 9 mm ma dov'è l'elicottero peraltro era era proprio sopra di noi un secondo fa oh no avrei potuto tirarlo giù magari potevo recuperare qualcosa ma ci sono in casa appè appè questo l'elicottero razza di potta è già precipitato quando non guardavi ma no ma che sfiga santo cielo aspetta che c'è a un'altra scatola anche qua dietro della resina per stampante si è vero ne avevo sentito parlare ci sono nel gioco delle stampanti 3d all'interno di laboratori segreti che ci permetteranno di craftare tutto il necessario abbiamo anche delle rocce olle allora l'inventario si apre con i fa che spettacolo cos'è ma è gigantesco il nuovo zainetto ma è uno spettacolo assurdo allora vediamo di aprire il kit di pronto soccorso con all'interno un'ascia un telefono gps la guida e un accendino allora vediamo di recuperare innanzitutto l'ascia tattica ecco come faccio a equipaggiarla così ok ora sono armato e pericoloso allora intanto che franchino recupera del pesce io mi diverto a recuperare le foglie e la legna bastoncini e chi più ne ha più ne metta ovviamente stiamo muovendo i primi passi all'interno del gioco quindi sarà un survival molto basilare quantomeno per questo primo episodio altre munizioni per pistola stordente ah ci sono anche le ragnatele ci vado di muso se mi trovavo un ragno in faccia urlavo come una povera donnina in difesa però davvero a livello di texture wow si vede che hanno fatto passi avanti da gigante allora iniziamo battendo gli alberi davvero guarda quanti poligoni santo cielo franchino franchino dati da fare mi raccomando eh dobbiamo quanto prima vedere di accendere un bel fuocarello vedo che in basso a destra c'è la schermata con la nostra vita che è abbastanza bassa e quella sinistra rossa quella a destra invece è la stamina vi ricordo che mano a mano che ci stanchiamo il livello di stamina massima scende cade oddio oddio franco franco fai attenzione ok wow vediamo un po' quanti tronchi possiamo portare via con noi un tempo ne potevamo portare via tre però adesso ci accontentiamo di due franco colpisci anche i bambi tanto che ci siamo da quello che so i cannibali ora possono anche sciularti le risorse no non sto scherzando non c'è un attimo di trega guarda pesce che ha recuperato franco aspetta che li metto nel mio inventario ne posso portare via un massimo di tre ma come li peschi franco cos'è metti il pipino nell'acqua e aspetti che abboccano franco c'hai 8 miliardi di scoiattoli conigli e bambi in parte aspetta che posso anche vedere di bere questa è acqua potabile quindi non dovrebbero esserci problemi come ho detto dobbiamo darci una mossa prima che calino le tenebre ma soprattutto prima che arrivino i cannibali qui possiamo mettere il fuocarello vediamo un po' come funziona perché come ho detto non so praticamente nulla allora possiamo recuperare dei bastoncini mi hanno detto che devo guardare verso il basso ne mettiamo due così e due colà e abbiamo fatto il falò ma dai ovviamente è un falò di fortuna perfetto utilizziamo anche delle foglie per accenderlo ottimo franchino ho acceso un fuoco forza buttaci il pesce sopra e ciao ne allora premo e ok seleziono il pesce ah ce lo butto così sopra di proputenza come faccio a sapere quando è cotto mi sa che dovremmo attendere qualche minuto oh mio dio quando le nuvole passano davanti al sole ti proiettano delle ombre beh molto realistico da questo punto di vista ciao bambi cosa fai qua di bello vieni qua che ti faccio conoscere la mia amica accetta ma dai a me piace accettare tutte le creature di nostro signore e niente dobbiamo craftarci una lancia quanto prima franchino franchino il pesce pronto beh come faccio a prendere il pesce perfetto pesce cucinato aggiunto all'inventario franco stai cagando ti vedo messo in posi abbastanza compromettenti ma vabbè dettagli allora continuiamo a scoprire le novità di questo gioco wow parte della mia legna è finita già nel nel fiume non iniziamo bene ora noi possiamo bloccare sul terreno qualcosa cliccando così e lui non si dovrebbe muovere ed inoltre possiamo anche combinare gli oggetti ad esempio se premiamo tasto destro la possiamo conficcare letteralmente sul terreno ma che roba quindi adesso la legna non continuerà a rotolare a valle fino alla fine dei tempi che cosa buona e tanto giusta allora datemi un secondo che vedo di mangiarmi dov'è il pesce cotto? questo è il pesce cotto ah eccolo è qua dietro quindi faccio così e gnamete ah si muoveva ancora la testa ma no lo mangi dalla testa ma che schifo la testa del pesce no ok dovrei aver ripristinato anche parte della vita che cosa buona e tanto giusta no non lo voglio mangiare no non lo voglio mangiare lo volevo equipaggiare che schifo lo volevo tenere in mano detto così sono male ma ci siamo capiti ok restiamo un leggerissimo avvelenamento da cibo crudo ma vabbè sono cose che capitano facciamo finta di nulla che è meglio guarda franchino pesce che ha ricontinuato a riportare e anche la mia barra della stamina si è ripresa considerevolmente in passato andavo praticamente avanti a bibite gassate via dicendo ah quante lattine mi sono traccannato però questa volta non abbiamo più le valigie dei passeggeri da derubare franchino fai attenzione ma porca miseria mi finisce in pieno sul fiume e vabbè sono cose che capitano piana 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 vabbè dopo vado a recuperarla all'occorrenza allora molliamo per adesso tutto lì allora diamo un'occhiata al nostro manualetto per capire cosa possiamo craftare possiamo farci una tenda di fortuna come giro le pagine buon salve ah forse c'è una sola pagina per adesso il fuoco base abbiamo imparato a farlo rompendo la legna mi dice che possiamo fare anche il falò rinforzato però ci richiederà dei sassi tutte risorse che possiamo recuperare in qualunque momento il fuoco rialzato che possiamo utilizzare tipo a torcia la luce teschio siamo già arrivati alle cose con le parti umane ecco magari evitiamo nei limiti del possibile possiamo fare uno steccato un pavimento base e c'è praticamente di tutto ok franchino tu continua a pescare bravo ciccio io do un'occhiata in zona per capire dove cocchio siamo finiti è vero che abbiamo un gps oh molto bene lo vedo un po' difettoso però eh vediamo un po' devo capire la k è sicuramente franco ovvero kelvin dove cocchio siamo finiti beh non è male il problema è che non mi dice nord sud est ovest e via dicendo però c'ha l'orologio integrato perfetto quindi sappiamo che momento della giornata è un tempo dovevo guardare il sole ma vabbè dettagli quanto è fita la foresta è tanto fita madonna c'era un bambi no comincio ad aver paura perché prima o poi loro spunteranno allora datemi un secondo che vedo di raccogliere intanto dei bastoncini mi domando se ci saranno anche creature aggressive fin dall'inizio all'epoca c'erano cos'erano i cinghiali i cocodrilli maronne il lag il lag è una fra le creature più bestiali che sicuramente incontreremo all'interno del gioco guarda alberi è strasuperfitta come foresta però ci sono tanti bambi mi consolo è un'ottima notizia mentre invece per le foglie bastava abbattere questi cespugli base le foglie sono indispensabili per alimentare temporaneamente il fuoco accendere un fuoco e chi più ne ha più ne metta però una volta me ne davi di più gioco ti è salita una tirchiaggine di proporzioni bibliche ok continuiamo a raccogliere legnetti dai 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 che non abbiamo tutto il giorno anzi metà giornata è già andata a farsi benedire comunque si il framerate a dettaglio massimo ve lo garantisco anche con la 4090 stavo guardando se girava la ventola della 4090 fa veramente schifo ma il primo the forest è la gava schifo eh signori non so se ve lo ricordate ma vabbè dettagli allora aspettate che recupero anche questa legna riportiamo tutto indietro oh bambi non mi toccare la legna che ti picchio male la mamma no ma non mi toccare il pesce bambi dai frachino vorrei cambiarti il compito porta pazienza perché mi hai procurato anche troppo pesce a questo punto recupera bastoni no perché sono facili da trovare recupera dei tronchi e lasciali direttamente qua ciccio mi raccomando non buttarli in acqua oddio devo trovargli un punto più tattico ma vabbè dettagli aspetta che intanto metto dell'altro pesce a cucinare perché c'ho una fame di proporzioni bibliche quanto ne posso buttare tre anche di più più di tre in una volta franco no 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 grazie di avermi portato qua i miei stessi tronchi franco sei di un imbecil di un'utilità veramente incredibile se lasciamo la base del tronco il gioco continuerà a far crescere gli alberi nei giorni a venire che cosa buona e tanto giusta allora se lui mi porta i tronchi come ho detto io continuo a raccogliere i bastoncini una volta che abbiamo costruito un campo base possiamo iniziare ad esplorare come dicevo la zona circostante dovremmo costruire anche delle palizzate di difesa ma almeno da un lato abbiamo il fiume anche se loro possono camminare sulle acque beh quantomeno camminare sulle acque più basse e queste purtroppo per me sono molto basse però almeno è acqua potabile pronta all'uso franco smettila di portarmi qua la mia stessa legna idiota uh aspetta che ho trovato un'altra di quelle casse con i flare i bengala ottimo ottimo c'era un punto di domanda un cordoncello mi pare di aver letto ah probabilmente se troviamo delle piante che non conosciamo lui le raccoglie comunque ah le ho mangiate ok sono dei mirtilli perfetto sono dei mirtilli a posto una volta che li abbiamo assaggiati e identificati correttamente lui li saprà riconoscere anche per utilizzi futuri allora cerchiamo di craftarci una sorta di lancia prendiamo un bastone e lo mettiamo lì se prendi posso combinarlo col coltello forse no mi servirà dello scotch o un altro bastone ci siamo ma lo scotch ce l'ho qua sotto oh qualcosa ho fatto quindi combina il tutto forse il coltello non serviva sì serviva coltello e ho craftato sì una lancia di fortuna e mi ha utilizzato le mie scorte di scotch purtroppo vabbè non importa per adesso equipaggiamola e teniamola pronta all'occorrenza se trovo un bambi gliela pianto ripetutamente in quel posto ah il pesce ho dimenticato di aver messo il pesce sul fuoco mi sa che o franco l'ha mangiato vabbè non è che se lo sono mangiato gli animali vero ma porca la miseria vabbè sono pieno zeppo di pesce è molto più probabile che si sia carbonizzato porcaccia la miseriaccia ok butta tutto su questa volta aspetto qualche secondo sì ho l'arte per dimenticarmi il cibo sul fuoco ve lo garantisco non è la vita vera per fortuna franco non fare il finto tonto tanto lo so che sei stato tu però almeno ci hai procurato un bel po' di legna tre quarti la mia come ho detto ma vabbè dai pesciolino che devo andare a caccia veloce ok questa volta mi sembra decisamente molto ma molto più cotto franchino però quella testa che si muove mi fa un senso incredibile ottimo così la nostra vita è risalita un altro po' e quasi al massimo della vita allora vediamo di recuperare anche del pesce crudo però sì non li puoi sommare purtroppo sia il pesce crudo che il pesce cotto allora cos'altro possiamo craftare volevo farmi una tenda di fortuna cioè franchino non me ne frega niente dobbiamo recuperare il telo lo abbiamo trovato prima eccolo qua in effetti sì quindi lo equipaggiamo dove lo metto possiamo metterlo direttamente qua a terra in effetti sì ah con che lagume non me lo dici vedete che c'erano anche dei funghetti qua a terra poi ci metto un bastoncino perfetto da una parte e un bastoncino anche dall'altra mi stava un po' baggando la cosa ma vabbè dettagli la lancia ok meglio che nulla per le prime notti potrebbe essere un riparo pressoché perfetto continuiamo intanto a raccogliere i risorsi come ho detto franco mi dorme all'addiaccio ok mi sembra strano che ancora non mi abbiano trovato aspetta la tenda mi permetteva non solo di dormire ma anche di salvare la partita meno male non vorrei dire una boiata ma questo gioco non salva in automatico mi pare pertanto se muori devi rifarti tutto dall'ultima volta che hai salvato oddio franco è sparito ah no eccolo laggiù per un secondo mi ero spaventato ancora non possiamo craftarci tipo le mega baitozze quelle iper serie quelle erano tanto tanto faighe ho scoperto cose se premo x lui mi apre il manualetto da quest'altra parte e ora ragioniamo oh oh le strutture pronte all'uso potremmo già farci la baita in legno piccola ma mi straprendi in giro il riparo carino anche così semplice la torre di vedetta i rifugi sull'albero il problema è che non ho le corde però sembrano molto fattibili ma va che spettacolo ci sono molte più strutture di una volta no 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 non cominciamo a craftare cose con le parti del corpo umane deposito per pietre deposito per bastoni e deposito per legna oh ora ragioniamo porca miseria non si vede quasi più nulla allora me lo blocchi qui perfetto e ora basta che clicco e et voilà come per magia è pronto all'uso devo scoprire se posso dire a franco di mollare direttamente qui le suddette risorse mio dio non mi far vero signori mi stanno ritornando i flashback e i traumi del passato un tempo ne potevi mettere fino a 8 mi pare forse 6 in quello base vediamo un po' ok sei sicuro tanto li finiamo alla velocità della luce la rastrelliera per essicazione questo è ottimo per il pesce per la carne allora la possiamo mettere direttamente qua sopra perché no perché non ti va bene il gioco ok finalmente ho trovato il punto giusto tuttavia ho una leggerissima carenza di legnetti quindi vado a procurarmeli molto rapidamente boia bambi state fermo c'è l'acqua che fa un casino di proporzioni bibliche purtroppo mi dispiace ragazzi ok mi addentro nella foresta al calar del sole cosa potrebbe mai andare storto guardalo lo vedo il sole si sta tramontando molto in fretta mi bastano un po' di rametti standard dio mio oh no vi giuro i rumori i rumori di the forest sono la cosa più terrifica no stanno arrivando li ho sentiti era il loro classico urlo lo riconoscerai lontano un chilometro ma porcaccia la miseriaccia spero che mi faranno anche espandere l'inventario se vi ricordate potevi craftarti delle bisacce se ben ricordo più avanti nel gioco oh franchino mi hai fatto prendere un cago assurdo è lui che abbatte alberi se zabe che minimo rispetto aspetta un attimo ai tempi d'oro ai cannibali non piaceva quando gli deturpavi la natura potrebbero incocchiarsi ma giusto un attimino olè direi struttura pronta all'uso allora clicco con la E e poi ci mollo casomai il pesce crudo ovviamente non il pesce cotto vabbè giusto è così che si essicca sono un ometto un po' pirla in effetti aspetta che c'è pesce dovunque e comincio a non vedere praticamente nulla col calar delle tenebre per mia fortuna la suddetta struttura ha anche un sacco di uncini quindi ci possiamo appendere fino a sei risorse per volta mamma mia che spettacolo mi domando tuttavia quanto tempo impiegherà il pesce o la carne per essere completamente essiccato e durerà sicuramente più a lungo del pesce cucinato ok riequipaggiami la lancia perché c'è il bambi ah guardalo lì che si sta per mettere a dormire e cerchiamo di arrivare tipo da dietro se gli arrivo da dietro non mi puoi sentire o altro non gli posso fare la kill vediamo un po' vai 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 trappanalo male trappanalo male trappanalo male vai 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 morici bambi morici bambi morto bambi si ho ammazzato il mio primo bambi non andate a dirlo in giro per favore che sono la disney vi denuncia perfetto ok abbiamo la pelliccia del bambi ottimo è un bel no non voglio mangiarlo non voglio mangiarlo sbagliato clicca porca caccia la miseriaccia ma ti pare il caso di mangiare la carne cruda ciccio che schifo perfetto almeno abbiamo recuperato un po' di carne ma c'è qualcuno ah no è un altro bambi è un testimone lo dobbiamo eliminare santo cielo mi potrebbero denunciare al WWF allora dammi un secondo che intanto metto a sto punto a cucinare la suddetta carne di bambi ole cercando di non dimenticarmene franchino io sto sentendo rumori ripilanti uuu ho le cose con i led molto moderno in effetti davvero sento gente che urla porca la misera franco franco vieni qua ho bisogno di te carnalmente no no carnalmente no ma insomma ci siamo capiti ok presumo che la carne sia cotta perfetto posso buttarci tipo delle foglie per alimentarlo vediamo un po' quindi clicco tipo così ok credo che abbia funzionato non ha funzionato più di tanto mio dio ora che calano le tenebre è molto più terrificante oh no ok l'on l'on mantieni la calma mantieni la calma trova un modo per farti luce durante la notte ovvero guarda anche qua c'è la striscia led un falò rinforzato un falò rinforzato sicuramente farà molta ma molta più luce aspetta ma in teoria basta che ci metto io i sassi direttamente a manina oh dio quanto è buio e franchino tranquillo tanto lui non sente nulla ok allora proviamo a prendere in mano i sassi uber grandi perfetto e faccio così e funziona in teoria provo eh no sembra che li stia mettendo tutti attorno vai così e voilà a posto credo sia un falò rinforzato oh dio mio guarda le dume con quanto le dume non me lo dici non posso tenerlo aperto a prescindere allora ricordati che hai anche un accendino ok cos'è un accendino UV ho mai visto un accendino del genere perfetto quindi lo teniamo sulla mano sinistra e intanto sulla mano destra posso avere l'ascia ah ok però cerchiamo di essere tattici e siamo nel cuore della notte andiamo a dormire che mi pare la cosa migliore da fare se siamo fortunati ci svegliamo all'alba che non hanno abusato di noi e franchino non è neanche dormito lui ha lavorato tutta la notte hai sete guarda questo non è un problema vediamo di andare a bere molto ma molto rapidamente devo trovare un modo per craftarmi una borraccia quanto prima ok siamo sopravvissuti alla prima notte non abbiamo incontrato neanche troppi pericoli o genti che hanno provato a sberanarci oh mi sono accorto adesso che c'è il cadavere del nostro collega qua in parte forse considerando che ci sono i cannibali sarebbe meglio non lo so buttarlo via buttarlo in acqua via dicendo questo non mi sembra ancora molto essiccato presumo che cambierà colore quando l'essiccazione sarà completa noto peraltro che ci sono dei punti di interesse verdi sulla mappa e uno non sembra essere poi così tanto distante ah c'è una farfalla sulla mia ascia che cosa carina allora iniziamo alla grande mangiandoci subito un po' di carne cotta una volta tanto vediamo un po' di quanto mi sale la barretta del cibo me l'ha quasi riempita franchino hai disboscato tre quarti della foresta nel frattempo ciccio oh e lui è inarrestabile non mi devo neanche occupare della della sua salute perciò cosa vuoi di più della vita spero che i cannibali non lo possano stendere aspetta che continuo intanto a raccogliere risorse perché ne ho utilizzate un bel po' voglio dire siamo ben nutriti quindi vediamo per l'appunto di esplorare la zona circostante sono le otto del mattino quindi ho tutta la giornata davanti a me bellino l'effetto della nebbia mattutina oddio speriamo di non finire in mezzo a qualche pericolo ma guarda che carino sto corso d'acqua beh la mappa è tanto più grande perché è un po' che cammino e non mi sento tanto più vicino al punticino verde aha ci sono anche delle strade battute ma guarda un po' ok questo semplificherà la nostra esplorazione dovrei essere più o meno a metà del percorso e per adesso è tutto relativamente tranquillo volevo vedere se ricordo a procurarmi anche altro cibo vabbè che peggiore delle ipotesi chiediamo a Franco eh Gesù mi sento osservato sapete molto bene che i cannibali nelle prime giornate si mantengono a una certa distanza e ti osservano ma possono iniziare anche a stalkerarti no non è un modo di dire ti stalkeravano ti seguivano e tu manco te ne accorgevi le prime volte poi adesso che la foresta è anche super mega fitta eh voglio dire il tutto non aiuta per niente beh in caso si avvicinino gli tiro un'accettata sulle gengive un momento come t'accetto io pochi ci riescono perfetto però dobbiamo anche trucidare altre creature ok dovremmo essere praticamente arrivati non so che cosa dovrei vedere c'è un punticino di interesse quindi a buon salve natura molto incontamina cos'è sta roba ho trovato cosa stiamo parlando sembra un golf cart abbandonato un golf cart tanto abbandonato ciao uccellini ah devo trucidare gli uccellini per avere le piume ora che ci penso bene aspetta un attimo se c'è un golf cart abbandonato vuol dire che non c'erano solo i cannibali nell'isola ma anche gente civilizzata oh questa è un'utile informazione ah santo cielo speravo di trovare qualcosa di utile per noi il golf cart non ci faccio praticamente nulla siamo anche precipitati nei pressi di una grotta oddio le grotte no intanto sto trovando altre bacche queste sono molto spinose semi di rubus e rubus spectabilis rubus non mi piace come nome qua vedo altre risorse ancora di cosa si tratta mirtilli beh questi li possiamo mangiare tranquillamente non mi nutriranno più di tanto ma della serie è meglio che nulla devo sempre tenere sotto controllo il nostro livello di stamina signori ditemi voi uno come fa orientarsi in una foresta del genere e voi purtroppo vedete un'immagine compressa per via dello streaming del video quindi fidatevi che con il livello di dettaglio grafico che vedo io è molto più terrificante ok sento tanti passi attorno a me ma credo che siano gli animali per adesso non li caccio perché non c'è bisogno non vorrei far incazzare troppo i cannibali che avevano un ottimo rapporto con la natura cioè se mani alle persone però sono molto ambientalisti eh beh certo ok sono ritornato praticamente ciao bambi nei pressi della della nostra abitazione beh beh della nostra base perfetto razione militare ah ci sono casse in giro e io questa come dovevo vederla scusa batterie resina per stampante ottimo quindi le casse sono cadute letteralmente dovunque oh no ok vedo la mia tenda laggiù questa è un'ottima notizia e oh oh questo invece non promette bene signori che faccio glielo deturpo togliti di lì scoiattolo ti devi levare ho beccato lo scoiattolo in effetti ehm sì bastone stordente oh molto utile dite che possiamo stordire anche gli animali allora aspetta che intanto mi scuoio lo scoiattolo potrei far tuttavia arrabbiare i villici del luogo villici dove siete finiti domanda da un milione di dollari il nostro bastone stordente andrà a batterie quasi sicuramente sì non penso di poterne abusare ok per adesso tutto tranquillo guarda quanti bei tronchetti senti a sto punto ne approfitto per craftare un riparo un po' più serio sì dovrei craftare un riparo sugli alberi ma per adesso sono le prime notti quindi non ci dovrebbero essere troppi problemi una bella baita in legno piccola ah ma è grande è bella grandina in effetti allora mettiamola magari un po' distante dall'acqua direi più o meno qua sì ci può stare ci può stare franchino mi dai una mano a trasportare la legna ciccio la cosa interessante è che mi chiede di raccogliere tronchi a metà tronchi a tre quarti e tronchi a un quarto aspetto un attimo oh mio dio devo tagliare io la legna a livello giusto questa era una meccanica che mi mancava sì sì più di due tronchi per ora non li si trasporta gente oh è un bel problemone quindi adesso è molto più attivo il crafting delle risorse come siamo messi a pesce guarda scoiattoli dovunque porca la miseria dobbiamo anche craftare le trappole per gli animali anche se siamo onesti con franco che raccoglie le risorse avanti e indietro devo dire che c'ho lo schiavetto che fa praticamente tutto il duro lavoro è molto più semplice è come farla praticamente in multiplayer però devo scoprire come cocchio si fa a tagliare i tronchi dopo averli raccolti forse li devo appoggiare su una superficie franco mi stai buttando la legna in acqua porca la miseria aspetta un attimo posso tagliare la legna trasversalmente nooo ok questa potrebbe essere utile forse per il pavimento vediamo un po' non ne ha bisogno in effetti però franco non mi rubare la legna ma porca la miseria franco ti odio nel profondo però si può fare ok molto ma molto utile franco smettila di ciularmi i tronchi pazza di idiota oh perfetto guardate è comparso il simbolo e abbiamo tagliato quindi la legna a un quarto oh che figata aspetta 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 e olè ottimo ok devo giusto rimanere praticamente qualche secondo fermo davanti al legno e lui attiva la suddetta modalità sì ma dov'è che la devo inserire scusa mi hai chiesto della legna a un quarto succede oh buongiorno signore ok abbiamo incontrato la gente e ovviamente continuano a salire sugli alberi vedo che certe abitudini non le perdono oh caccia la miseriaccia ah probabilmente la legna più piccola mi servirà dopo non la dobbiamo ancora inserire adesso prima lui vuole che noi mettiamo la legna grande invece in passato anche se erano svolazzanti te li faceva piazzare senza il benché minimo rispetto signore avrebbe un pochettino rotti i maroni se non mi ciulasse risorse grazie eh franco sei fai franco cos'hai fatto ecco bravo bravo digliene 4 al tizio ok faccia finta di nulla noi continuiamo a craftare la nostra base ma dimmi te abbiamo i vicini rompi palle ok ho visto franco che beveva e la cosa mi ha fatto preoccupare non ditemi che lo devo nutrire io no forse boh si procura il cibo da solo o se trova cibo all'interno della nostra base lo mangerà in automatico quindi forse è stato lui a mangiarsi il pesce ieri speriamo perché in passato anche se bruciavi il cibo il gioco non te lo despunava vedo che peraltro adesso il fuoco dura acceso molto ma molto più a lungo che faticaccia perché mi sono messo a fare la big bite tozza nel primo episodio abbiamo tuttavia un problema sapete molto bene che una volta che i cannibali hanno scoperto la tua base da quel momento in poi verranno a controllarti di tanto in tanto e attivamente cercheranno di capire se sei un nemico o se resterai neutrale se ricordo bene nel primo The Forest tecnicamente se tu non li avessi attaccati per oltre un tot di tempo beh loro smettevano di assaltare la tua base il che rendeva il gioco un pochettino una cagata da quel punto di vista ma insomma ci siamo capiti buongiorno che sta succedendo devo mettere un'altra tipologia di legno ah ah li divide lui in automatico aspetta da quando la fai stare sta cosa questa mi è nuova però questi non me li fai mettere aspetta vuoi vedere che forse non li dovevo dividere io oh ridendo e craftando ho fatto fuori praticamente tutta la scorta di franchino e non abbiamo costruito neanche metà casa ma mi prendete per il chiurlo quindi si la divide e la piazza direttamente ottenendo il pavimento ma non volevo che tu la buttassi ciccio dove me l'hai presa questa? ok cosa strana ora le assi le accetta anche se le ho già tagliate io ah meglio così immagino si però il cadavere del tizio lo dobbiamo togliere mi domando se ne rimarranno solo le ossa ma non mano che andiamo avanti aha eccola qua la trappola per animali piccola allora ho visto che da queste parti passano parecchi animali più che altro perché siamo vicino all'acqua quindi se in teoria io la piazzo qui cioè a parte che ce l'ho scogliato lì in parte me lo potrei anche catturare da solo olè prima o poi qualche animaletto ci dovrebbe finire in mezzo così mi risparmio l'inseguimento il che è una bella comodità inoltre solito bene c'è anche la trappola per pesci si però mi richiede un sacco di bastoncini trappola per cacciatore d'ossa aia queste mi sanno di trappole più per umani e via dicendo si è attivata la trappola aspetta un attimo però mi sa che il coniglio è scappato fatemi dare un'occhiata si mi sa che ah non si è attivata correttamente che rottura di maroni un tempo potevi mettere anche del del cibo sotto o mi sbaglio ma dimmi te allora aspetta che recupero ancora un po' di legna di franchino non ho voglia di andare io ad abbattere alberi c'è franco tanto vale sfruttarlo dannazione ho lavorato troppo e sto iniziando a stancarmi infatti la barra della stamina è bella bassina allora datemi un secondo che dovrei avere ancora un bel po' di cibo controlliamo che non sia marcito questa è carne cruda questa è carne cotta vorrei evitare di prendermi la salmonella e tutte cose ciccio nei limiti del possibile ok abbiamo ripristinato buona parte della stamina come ho detto finché non ci attaccano questo gioco è relativamente molto semplice per adesso come ho detto cerchiamo di assicurarci di avere una base sufficientemente operativa e poi partiamo all'avventura anche perché per adesso non so effettivamente cosa dobbiamo fare l'altra volta dovevo trovare mio figlio stavolta devo comunque trovare i ricconi bella domanda i trunchi che saltellano nell'acqua fenomeni del luogo abbastanza normali gente franco ma sei tu che butti la legna in acqua razza di idiota lo dicevo io dopo gliela faccio mettere in un posto più sicuro ho visto movimenti nella foresta quindi sono molto guardingo in questo momento ok la trappola si è riattivata ma direi che non ha catturato nulla nemmeno stavolta è che due maronzoli però probabilmente se gli vanno addosso da dietro non si attiva la posso tipo girare o altro ma che va che di sto passo veramente faccio fuori le creature a mano e facciamo prima tanto la quantità di carne che droppano è poca non ci mangia neanche franco vabbè che franco ormai si nutre del mio stesso amore allora datemi un secondo che alla fine si il fuoco si è spento vai così si perfetto e a sto punto mettiamo a cucinare quelle due bistecchine che avevo qua crude olle peraltro a che ore sono perché mi sembra che ma 13.51 credevo stessero calando le tenebre troppo in fretta per quello che mi riguarda oh una cosa è certa c'erano molti più alberi quando siamo arrivati due giorni fa pian pianino franco ha disboscato quasi tutta la zona spero davvero che ricrescano le big denunce che mi prendo al vf per davvero ah che faticaccia però piccolo adorabile coniglietto vediamo un po' se ti ho preso un cugino no niente da fare sta trappola qui è completamente inutile devo metterla girata dall'altra parte come ho detto faccio prima a far così hoppla e via no ho dimenticato la carne sul fuoco franco me le devi ricordare se cose avanti avevo un cago che cadesse sulla casa ma in teoria cade nella direzione opposta in cui stai guardando quando hai finito di abbattere oh guarda quanti tronchetti è che si manca poco il sole sta scendendo molto wow ma molto in fretta questo è uno strano bug che mi sta accadendo da un po' non so perché mi si mi si sminchia la legna ok una volta tanto ho troppi bastoncini quindi facciamo il deposito per bastoni spremelo lo possiamo piazzare in una zona visibile perché rosso non ti va bene dai ho un piscato ok qua gli va benissimo dove non c'è erba che mi copra il campo visivo oh va che spettacolo mi raccomando cicciotte fai la guardia eh dovrei fare anche un deposito per i sassi per le rocce visto che ne sto accumulando parecchio anzi per le pietre dice il gioco si è bagato male ok ha deciso di cadere alla fine però secondo come al solito mi sono saliti i peggio dubbi oh è pur sempre in accesso anticipato signori quindi i baghio sono all'ordine del giorno aspetta che ah si devo piazzare i bastoncini recuperamene un po' da qui piazzali di qua e voilà ora ci scarichiamo dentro tutte le roccine oh mi piace avere l'inventario libero ponci ponci popopon aspetta che c'era questa roccina qua davanti che mi dava fastidio che me ne faccio di sti mini tronchi adesso sono dovunque oh salve signorina buongiorno va tutto bene metto via l'ascia salve è anche mezzegnuda buongiorno dove è andata beh ma c'ha tre gambe la signorina c'ha tre gambe complimentoni è tutta culo praticamente è tutta coscia salve eh cammina anche sopra i bambi lei fotte sega no non scappi via e beh con tre gambe puoi scappare via anche velocemente ok sembrava diversa dagli altri vestita e molto più civilizzata eh niente per quest'oggi mi sa che non ce la facciamo mi sto dando da fare il più possibile oh non sapete neanche da quanto sono in partita ah che faticacia veramente assurda in teoria con una decina di tronchi dovrei riuscire a completare il lavoro eh però va che tetto di tutto rispetto ma non è una baita un po' troppo alta per le nostre esigenze vabbè tanto ci devo stare solo io al diavolo franco come dicevo eh una riunione di scoiatoli venite qua piccoli stellini perfetto ehm ciccio buongiorno se vuoi raccoglimi la carne beh ma l'ho ammazzato l'ho fatto splechete posso uccidere anche gli uccellini vediamo un po' vai oh ce l'ho fatta piume 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 tutte mie tutte mie tutte mie perfetto immagino che l'uccellino non me lo magno no eh ha detto il gioco non esagerare ho capito che c'hai fame ma porca la miseria anzi a proposito di aver fame dovremmo avere ancora un po' di pesce ah e marcio eh questo invece è ancora buono beh ha un colore molto verde madonna marmarciscia la velocità della luce e niente non mi resta che buttarlo via prima che facciamo confusione quindi faccio l'ascia e l'ascia perfetto oh molto ma molto meglio mi sono nutrito mi sono abbeverato ho anche cucinato un po' di carne extra all'occorrenza allora è inutile aspettare stanno arrivando stanno arrivando quindi io direi andiamo a dormire e svegliamoci magari all'alba oh perfetto se vai a dormire al tramonto ti svegli all'alba con franchino che ti porta la legna al posto delle brioche franco volevo le brioche cornetta e tutte cose un cappuccino basta dimmi te non ci sono più i franco di una volta oh dai ancora una trave e il gioco è fatto bravo franchino era esattamente ciò di cui avevo bisogno oh fin ancora urla nella foresta finalmente la baita è pronta oh meravigliosa ma ci abbiamo mezza finestrella ma dai ma mi sale una eeeh dicevo mi sale una claustrofobia di proporzioni bibliche chi è che urla nella foresta e che cocchio domanda da milioni di dollari come come entro buon salve ah ok perfetto devo proprio buttarmi sulla porta oh mi sento decisamente molto più al sicuro forse possiamo anche craftare degli scaffali e via dicendo e le risorse all'interno me lo auguro saranno protette dai ladri eeeh vediamo un po' aspetta che non mi ha visto vai ah si è spostato all'ultimo dannazione no mi ha attivato anche la trappola sei un pezzo di erba sono loro che mi stanno probando anche io posso attivare la trappola ma che cocchio oh c'è il bambi che riposa l'ho preso l'ho preso ma non l'ho ammazzato non l'ho ammazzato aspetta vieni qua piccolo stellino dai che l'ho ferito e morici e morici si ma non morirci con questi suoni oripiranti mi fai salire il peggio se non si di colpa non era il bambi di nessuno vero aspetta me la posso utilizzare io a posto aspetta che non mi mangio erroneamente la sua stessa carne guarda quanti bastoncini perfetto raccogli tutte cose nuova ricetta di creazione disponibile che cosa buona e tanto giusta marone ho trovato una marea di risorse va che roba incredible perfetto aspetta che sto continuando a trovare funghi e altre risorse che per adesso non conosciamo non so neanche se valga la pena cucinarli franchino se ci procuro fermo lì fermo ok l'ho preso l'ho preso l'ho preso ho pigliato la mia struttura no 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 adora mille bambi casino e porca la miseria fracco becca il bambi dammi una mano come dribbla sto bambi pochi ci riescono aiù e basta ok sei stato un degno avversario bambino e bambi insomma ci siamo capiti a posto mamma mia ora ragazzi no no volevo solo prendergli la carne ciccio ok abbiamo carne a profusione signori se arrivano dei cannibali vabbè spero che il cervo lo mangino comunque Buona gente io direi che per questo primo episodio di Sounds of the Forest Si possiamo fermare qua Devo dire che le premesse sono ottime Nel prossimo casomai iniziamo ad esplorare Craftiamo più cose, buttiamo franchino giù da una scogliera Qualcosa ci inventiamo Nei commenti ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate E lasciate un bel mi piace O fate la fine del bambi E noi ci vedremo in un prossimo video Ciao ciao